...utilizzare i social media per cercare di fare gruppo, di riuscire a ricreare quel tipo di gruppo che non si riesce più a creare nella dimensione offline. E quindi succede che sono sempre di più pagine su Facebook del tipo genitori che hanno perso un figlio ventenne per un incidente stradale, cioè pagine incentrate su uno specifico tipo di lutto in modo tale che genitori che hanno vissuto questa terribile esperienza ritrovino persone che hanno vissuto la stessa esperienza e entrino in contatto e in qualche modo cerchino di fare gruppo. Una scienziata russa che si chiama Eugenia Kuida perde un amico, un caro amico di 28 anni e anche lei, ispirata da Black Mirror, da questa puntata, si fa consegnare migliaia di messaggi che questo amico aveva mandato su WhatsApp e ha inventato un'applicazione per iPhone che si chiama Luca che rielabora, ha rielaborato tutti questi messaggi e lei può chattare con, chiamiamolo così, lo spettro digitale di questo ragazzo. Grazie 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 a tutti